Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, quando c'è la pioggerellina bisogna insidiare la regina, questo potrebbe diventare il tormento nel canale, ero in tutt'altre faccende affaccendato che ha cominciato a pioviscicare, ovviamente sono ripassato sul lungomare e ho visto che oltre alla pioggerellina c'era anche un momento di calma, il mare stava in scaduta, mi ha preso un'ansia ragazzi, che due lanci li devo strandare a fare, ma sto pure acceleratissimo in corsa, sarà una sensazione, ma le condizioni ci sono, secondo me, guardate, ma non faccio partire i tergicristalli e potete vedere che c'è una bella pioggerellina, sono le 5.20, un'ora di pesca, mi sono cambiato perché comunque l'onda c'è, non è che non c'è quindi non mi volevo bagnare più di tanto oggi proprio voglio scappottare raga, voglio scappottare, I won't, I won't cambiare spot, no sport, spot, cambiare spot si potrebbe, però il discorso è, non è che uno ha fatto la pensata come mai questa, cambiare spot si potrebbe, però non è la rapidità d'azione che è qui, qua, ho visto la pioggia, mi cambio e ci sono, vabbè, ho già parlato troppo faccio una mezza live, risparo un filmato da Nora oggi senza interruzione ci provo subito l'audace, idee molto chiare oggi l'audace mi era rimasto incagliato con un po' un pezzettino di vanno mi sembra di essere abbastanza in pesca con l'audace abbastanza abbastanza in pesca si, si è incazzato però è bello un po' un po' c'è un bagno una corrente pazzesca fuori una corrente pazzesca fuori una bella tempestina questo è proprio andato a surf questa si è fata dobbiamo aspettare onde giuste la notte pazzesca fuori 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 ah che roba questo è il bagno puro? questo è il bagno puro idem e due per il momento non sento freddo ma potrebbe arrivare sta rimontando no 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 too much possiamo provare qua questo lato che è abbastanza calmo poi dopo facciamo la doccia pure là alla canna stasera vabbè abbiamo fatto anche questo tentativo folle perché è un tentativo folle però la follia ce la vuole raga ce la vuole senza follia si capisce niente si è messo brutto si è messo brutto si è messo brutto ma fortuna che non fa freddo perché sennò qua una broncopolmonite non me la levava nessuno oggi ma qua tutto sommato si pescuccia non so nemmeno se piove sinceramente perché talmente sfragicume che che c'ho addosso che non lo capisco l'ultimo lancio aspettiamo stiamo riprendendo quindi me ne ero pure dimenticato niente la pescatina è finita e ci vediamo alla prossima ragazzi ragazzi più o meno giovani ecco state del buono mi raccomando provateci sempre anche voi e fatemi sapere se vi va un po' meglio rispetto a quello che sta succedendo a me ma in questo spot devo dire che sento molti pescatori che si lamentano quindi non credo di essere io vabbè oggi era come un azzardo ma a me piace azzardare ciao grazie a tutti